... Sabato 30 gennaio, buongiorno e ben ritrovati cari telespettatori di FanoTV. Questa è Occhio ai giornali, la rassegna stampa, una selezione delle notizie più importanti in evidenza, selezionate per voi e commentate in questa prima parte del mattino. E allora iniziamo però con il santo, vediamolo subito, il santo di oggi. Oggi è Santa Martina, auguri quindi a tutte le persone che si chiamano Martina e che ci stanno seguendo. L'alba è alle 7.30 e il tramonto alle 17.17. Uno sguardo al tempo perché oggi cambierà un po' la situazione del tempo. Avremo deboli piogge sparse a partire dalla tarda serata di oggi con temperature in lieve aumento. Per domani, domenica, avremo una giornata ancora in zona arancione e quindi con limitati spostamenti. Questo poco male perché avremo anche molte piogge, anche a carattere di rovescio più abbondanti nel pomeriggio. La quota neve si aggirerà e sarà in abbassamento fino a 1200 metri, quindi interesserà tutta la catena appenninica. Per la giornata invece di lunedì, lunedì primo di febbraio, il mese si apre con ancora qualche debole e locale precipitazione nel pomeriggio, ma soprattutto nel sud della regione. La quota neve si alza, vedete, siamo intorno ai 1400-1500 metri. Le temperature ancora in diminuzione nei valori minimi, quindi quelle della notte. Probabili condizioni di tempo stabile invece nelle giornate di martedì e mercoledì. Allora, abbiamo tirato un sospiro di sollievo tutti quanti, quando ieri nel tardo pomeriggio abbiamo comunicato, anche noi nel corso del telegiornale, ma prima nei nostri portali, nei social, nelle nostre pagine, così come sul nostro sito, la notizia che poi ci ha subito dato il governatore Acquaroli, che le marche erano finite, dunque in zona gialla. Tutto questo mentre alla vigilia, ieri mattina a quest'ora, stavamo qui dicendo che invece la situazione era piuttosto complicata, perché pareva che ci toccassero altri sette giorni in zona arancione. Invece ieri è arrivata quindi la buona notizia, la notizia che tanto aspettavamo e che trova spazio naturalmente sui giornali di questa mattina. Andiamo a vedere allora il Corriere Adriatico, Corriere Adriatico edizione di Pesaro, che titola Marche Gialle, giustizia è fatta, il governo si ravvede in extremis, regione nella fascia rischio moderato, lunedì riaprono bar e ristoranti, Acquaroli che dice eravamo pronti, erano pronti i ricorsi, ora serve responsabilità, guai a chi non rispetta le regole, non è un liberi tutti. Poi il Corriere Adriatico questa mattina fa una sorta di scoop, tra virgolette, dove scopre che Forbes smaschera il ristoratore ribelle, il ristoratore ribelle è Umberto Carriera, il ristoratore pesarese. Il documento di Forbes appunto di Carriera è falso, tra poco vedremo anche i dettagli. Poi nelle pagine sempre interne, con richiamo in prima, sul Corriere, ristoratori a terra, ora fateci aprire con continuità, screening a scuola, trovati sei positivi, ricci, soddisfatto, capitale della cultura, la regione sostiene pure la città di Rossini. E poi spycam contro gli incendi, quindi telecamere contro gli incendi, il parco blinda la sicurezza, sarà installato un sistema di telecamere intelligenti, dopo 27 anni la sede del parco San Bartolo verrà trasferita all'interno dell'area. E poi Confcommercio che lancia l'appello a Baldelli per la galleria della Guinza. Resto del carino, sempre edizione di Pesero. Marche in zona gialla, titolo d'apertura, l'annuncio di Acquaroli. Da lunedì i bar e i ristoranti riaprono, i titolari ma ora lasciateci aperti anche la sera, perché sapete che in zona gialla comunque alle 18 i ristoranti devono, così come i bar, devono chiudere. Un terzo dei processi in meno, così il virus ha bloccato la giustizia a Pesero. Poi l'inchiesta, uffici pubblici, troppi telefoni restano chiusi durante questo momento di pandemia. Confindustria, votazione bulgara, Pesero chiude l'alleanza con Ancona. Legambiente, dati del 2020, polveri sottili, sforamenti anche durante il lockdown. E poi la fotonotizia con gli studenti. Ieri mattina in fila per il tampone davanti alla palestra del Mengaroni a Pesero, spuntano sei positivi. Scuole sicure, 2700 tamponi al Benelli, adesione ferma al 17%. Poi ROF, Rossini Opera Festival, ecco la 42esima edizione, si torna al Palafestival, è stato presentato il programma e sul calcio vis oggi il Super Modena. E dunque la notizia che fa contenti sicuramente, questo virus, questa notizia delle marche in zona arancione e in gran parte l'Italia in zona gialla, fa contenti sicuramente due categorie. Quella nostra, noi, di tutti quanti noi, siamo contenti, siamo felicissimi. E poi l'altro, l'altro ad essere contento, chi è? Il virus sicuramente è contento, perché? Perché essendo in zona gialla si riaprono i bar, si riaprono i ristoranti e dunque se non faremo i bravi, chiaramente si riaccendono anche i focolai, si riaccendono tutte quelle situazioni che purtroppo, se non controllate, rifanno ripartire i contagi. Questo lo diciamo non perché vogliamo fare gli uccelli del malaugurio, ma perché se tanto mi da tanto, così come abbiamo visto in questi mesi, c'è poco da ridere. Comunque il Governo fa la cosa giusta, si torna in giallo da lunedì, speriamo che questa volta ci mettiamo un po' più di testa, riaprono bar e ristoranti, dopo il pressing delle Regioni, il Ministro ha chiesto la revisione dei parametri, l'RT a 0,88 e la classificazione del rischio moderata, gli ospedali sono sopra la soglia. Dunque andiamo a leggere un po' le dichiarazioni del Governatore, che insomma dice che da lunedì siamo in zona gialla, riaprono bar e ristoranti, ma anche i musei, i musei nei giorni feriali, bisognerà fare di tutto per restarci il più possibile, intanto l'RT puntuale delle Marche è stato confermato 0,88, decisamente più basso rispetto a quello della scorsa settimana, è segno del miglioramento sul fronte dei contagi. Sul resto del Carlino, sorpresa, le Marche lunedì tornano in giallo, sono contento per tutti i nostri lavoratori, il Governo rallenta le restrizioni, Acquaroli dice situazioni in miglioramento, ma temevo ci sarebbe toccata un'altra settimana in Arancione, temevo, dice appunto il Governatore, invece fortunatamente c'è stata una presa d'atto delle condizioni generali di miglioramento dell'intera situazione, sono molto contento soprattutto per i nostri lavoratori, ma questo, dice ancora, anzi ammonisce il Governatore Acquaroli, questo non significa che da lunedì ci saranno sciogliete le righe, dobbiamo tenere sempre alta l'attenzione perché pregiudicare la zona gialla sarebbe una grande sconfitta, per cui chiedo la massima attenzione da parte di tutti, questo è l'invito del Governatore. Sempre questa volta dal Corriere Adriatico, Acquaroli, adesso prudenza, titolo questo non è un liberi tutti, puntiamo a restarci a lungo, il Governatore ha intuito che qualcosa stava accadendo a Roma quando la comunicazione sulla zona da rispettare durante la prossima settimana stava stranamente ritardando, questa comunicazione, questa telefonata del Ministro non arrivava e quindi ha cominciato ad avere qualche sospetto Acquaroli. Ci aspettavamo la terza settimana in Arancione ed eravamo pronti ad avviare le pratiche per il ricorso al Tar, poi la telefonata del Ministro continuava a non arrivare, non arrivava. Poi però nel tardo pomeriggio di ieri sul cellulare del Presidente arriva un messaggio ed è il messaggio di speranza in tutti i sensi. Le marche sono in zona gialla, ha scritto il Ministro in Regione e quindi si è tirato un sospiro di sollievo, anche se, vedete, i numeri sono ancora molto alti sul fronte dei decessi, 16 morti anche se diminuisce il numero dei ricoverati, terapie intensive 73 degenti e in una giornata 371 positivi. Però 371 rispetto ai 5-600 di qualche settimana fa, come vedete già a colpo d'occhio, dicono che le cose stanno andando nel verso giusto. Pronto il piano vaccinale, ma le dosi sono un rebus. Oggi il Ministro Boccia ha convocato i governatori per ridefinire tutte le consegne. Mastro Vincenzo del PD dice oltre 6.000 somministrazioni al personale non sanitario. Il piano vaccinale anticovid è stato messo nero su bianco, però i ritardi nelle forniture rischiano di compromettere la tabella di marcia. La Giunta regionale delle Marche ha deliberato le linee di indirizzo per il completamento della fase 1 e l'avvio della fase 2, ma preoccupa la rimodulazione a ribasso della consegna delle dosi annunciata dalle aziende produttrici dei tre farmaci attualmente approvati, dall'ente che è appunto Lema. Queste aziende sono la Pfizer, Moderna e AstraZeneca, che ha ottenuto il disco verde proprio ieri. C'è questo problema che purtroppo sta rallentando e anzi ha fatto saltare il piano di vaccinazione. Nella fase 1, come giustamente fa notare nel riquadro il Corriere Adriatico, erano previste vaccinazioni per gli operatori sanitari e socio-sanitari pubblici o privati, per il personale e ospite delle strutture per anziani e per le persone di età pari o superiore agli 80 anni, che qui sono 125.000, ovvero 80 non ospitate in strutture. La fase 2 invece, come vedete da questo riquadro, prevedeva altre vaccinazioni. Però questo piano è un po' andato a farsi benedire. Mentre i tamponi trovano sei positivi a Pesaro, Pesaro sapete che rispetto alla Regione Marche ha deciso di andare un po' con il Comune per conto suo, ha fatto questi tamponi antigenici rapidi agli studenti, al personale e quant'altro e sono stati scovati sei positivi. Il Benelli, l'adesione ferma al Benelli al 17%, scuola in due giorni, testate 2.700 persone, tra docenti e alunni. La preside Mariani Marinai, scusate, dice da me poco entusiasmo, colpa dell'organizzazione, non c'è stato tempo sufficiente per avvertire i ragazzi e anche le loro famiglie. Qui nel riquadro vedete le scuole, le quattro scuole, i quattro istituti pesaresi con le percentuali delle presenze, insomma, di coloro che si sono fatti fare il tampone. Mentre uscendo dalle scuole, sempre dal Carlino, pagina 26, screening a Sasso Curvaro, uditore, sindaco e vice sindaco, sollecitano i cittadini, venite al controllo. Stiamo trovando anche dei positivi. È iniziato lo screening nel comune di Sasso Curvaro, uditore all'interno della campagna Marche Sicure. Il luogo adibito è quello della palestra, della piscina di Sasso Curvaro, che proseguiranno anche a Pian di Meletto e Macerata Feltria. Poi la cronaca. Fermato dai carabinieri, aveva la droga, arrestato e processato, è successo a Schieti di Urbino, nei guai un 27enne di origine marocchina. Addosso aveva l'Hashish in auto invece la cocaina. E poi a Urbino, sempre soccorso un anziano disorientato, momenti di concitazione all'Hotel Piero della Francesca, poco prima delle 8 di ieri mattina. La vicenda di Confindustria, questa separazione ormai di fatto, gli industriali si spaccano, Pesaro divorzia da Ancona, questo è il titolo dal Carlino, con una votazione bulgara. Gli imprenditori della provincia hanno deciso di rompere con i Dorici e il patron di Xanitalia, sempre contrario all'Unione, brinda. Franco Signoretti, lo vedete nella fotografia, patron di Xanitalia, che ieri ha annunciato il suo rientro in Confindustria, dopo che appunto i pesaresi si sono ufficialmente separati dagli anconetani. Ufficializzato questo divorzio dopo mesi di tira e molla, solo due industriali hanno votato contro Corrente, e cioè per continuare questa alleanza, questa unione, e uno di questi è Gianfranco Tonti, ex presidente di Confindustria, provinciale, ed anche l'uomo che ha dato l'avvio alla Costituzione proprio di Marche Nord, ma probabilmente l'avrà fatto anche per una questione ovviamente di coerenza. Adesso invece andiamo a pagina 7 del Corriere Adriatico di questa mattina. Anche questa mattina si parla di Umberto Carriera, questo ristoratore pesaresi, lo vedete nella fotografia, del quale ci siamo occupati abbondantemente, seguendo un po' le sue vicende, le sue azioni, le sue battaglie, tra virgolette. Sapete, Carriera è quello che sta, come dire, unendo tutti quei ristoratori un po', tra virgolette, ancora ribelli. E adesso che cosa succede? che Gianluca Murgia sul Corriere Adriatico di questa mattina pubblica questa notizia. Documento falso. Forbes smaschera il ristoratore ribelle. I vertici di questa rivista economica, appunto Forbes, valutano azioni illegali contro il pesarese Umberto Carriera. Loro dicono, quelli del giornale, mai selezionato in una lista dei migliori giovani imprenditori. La carta intestata, questa che vedete in questa fotografia qua, e che ha mostrato carriera alla stampa, questa carta intestata è artefatta. Sarebbe un falso. Il ristoratore pesarese, queste sono le tappe di quello che è accaduto, che ripercorre il giornale questa mattina, tappe che cominciano il 17 gennaio del 2019, quindi un anno, anzi due anni fa. Il ristoratore pesarese comunica di essere stato inserito da Forbes Italia in una prelista che individua i migliori 150 imprenditori italiani che hanno meno di 30 anni. Il 3 gennaio del 2019, per provare il prestigioso riconoscimento a carriera, fornisce un documento su carta intestata di Forbes, che vedete qua a fianco, firmato dal Strategies Editor dell'edizione italiana. Poi nell'ottobre del 2020, quando poi tutto è uscito fuori, la pagina di Facebook del pesarese solleva pubblicamente il caso pubblicando uno screenshot appunto di Forbes. Il 19 gennaio del 2021, qualche giorno fa, Selvaggia Lucarelli su Radio Capital chiede spiegazioni a carriera sull'inserimento nella prelista di Forbes e il caporedattore, il caporedattore della rivista italiana, nega l'inserimento di carriera in qualsiasi loro lista, dichiarando la lettera un documento falso e annuncia azioni legali. Tutti i particolari dettagli per chi ha voglia li troverà sul Corriere Adriatico di questa mattina in Edicola. Invece c'è una intervista a pagina 7 del resto del Carlino che il procuratore generale Sottani ha rilasciato al resto del Carlino e nella quale intervista lancia l'allarme sulla criminalità giovanile che definisce inquietante. Eccola qua. E lancia l'allarme di una società malata addirittura. Dati del 2020, meno processi penali civili, però più truffe informatiche. Il 30% dei processi penali in meno, celebrati, e meno del 10% quelli che invece non si sono tenuti in sede civile. La pandemia certamente ha influito anche nella giustizia con il blocco delle udienze impartite per due mesi da un decreto ministeriale della prima emergenza. E se il virus ha fatto rallentare la macchina giudiziaria da un lato, dall'altro ha portato una diminuzione dei furti. Furti in generale pari a un meno 24% e ancora di più per quelli in abitazione che registra un meno 37%. Ora, su questo spesso noi diciamo che molti quando subiscono un furto, furtarello o tentativo di scasso o defrazione delle case, eccetera, eccetera, spesso neanche lo denunciano. Quindi bisogna vedere se poi è reale oppure no questo dato. La morte, poi chiaramente la pandemia ha aiutato in questo senso e quindi anche per l'impossibilità dei ladri di spostarsi per la questione dei colori e dei controlli chiaramente diminuiscono anche i furti. C'è la polemica invece a Fano una polemica che riguarda la sicurezza lungo la strada statale adriatica e questo anche alla luce e dopo l'incidente mortale cui è rimasto vittima un 74enne nei giorni scorsi l'altra sera. La morte corre lungo l'adriatica a colpa dell'alta mole di traffico, l'analisi della comandante della polizia locale sul ripetersi di investimenti e danni di pedoni sulle strisce, la comandante Nerita Montagna lamenta in particolare la disattenzione dei conducenti e un totale disinteresse verso la segnaletica e questo è vero nel senso che purtroppo basta stare fermi fermarsi lungo la strada e guardare osservare un po' gli automobilisti ci si accorge che su 10 la metà guida con il cellulare guardando il cellulare quindi con tante distrazioni eccetera e questo è un problema che è serio un problema serio l'ultima vittima dicevamo aveva 74 anni Leonardo Giliberti che è stato trasportato giovedì in coma al pronto soccorso di Fano dopo essere stato investito alle 18.15 da un furgone in Viale Gramsci mentre attraversava sulle strisce pedonali ed è poi deceduto nella serata del giorno stesso perché i traumi riportati erano molto gravi era giunto a Fano da Bergamo sua città natale per coabitare a casa della figlia in via Sanchioni a Sassonia e nel settembre scorso era stato investito anche in Viale Battisti e c'è stato un altro incidente che trova spazio sempre sulla pagina di Fano del Corriere Adriatico di questa mattina uno schianto tra un'auto e una moto grave un ragazzo di 17 anni è avvenuto ieri mattina sul rettilineo di via Papiri a poche ore dopo quello che ha funestato la città con la morte dell'anziano questa volta la vittima è stata ricoverata all'ospedale in proniosi riservate entrambi sono accaduti nell'orario di punta e quindi insomma questa è la fotografia dei veicoli dopo lo scontro c'è un problema sicuramente di traffico a Fano tragedia di Viale Gramsci anche il Carlino trova spazio nell'apertura della pagina fanese polemiche sulla viabilità l'anziano morto travolto scatena la bufera su strade e sicurezza in città intanto la vittima dell'incidente sarà trasportata a Bergamo per i funerali questa è la notizia sotto ancora schianto in moto giovane centauro in ospedale successo ad un ragazzo di 17 anni che alle 7.30 di ieri mattina si è schiantato contro la fiancata di una Opel Corsa l'altra pagina di Fano del Carlino a caccia delle terme romane sotto la piazza la piazza è quella di 20 piazza 20 settembre che vedete in questa bella panoramica pubblicata sul giornale a destra invece il professor Luciano De Santis sarà questo uno degli obiettivi delle prossime indagini archeologiche certa è infatti la presenza di una rete di cunicoli e di volte a botte e quindi può essere che sotto ci sia stata al suo tempo una terme romana per seguire il tema della romanità sembra che sia stato creato un vero e proprio staff l'ipotesi delle strutture romane in quell'area è legata al mosaico del Nettuno intanto oggi l'addio al babbo del sindaco il sindaco Massimo Seri lo vediamo anche nella fotografia pubblicata dal Corriere Adriatico fortunato Seri aveva 83 anni e sarà celebrato questa mattina alle 10.30 nella chiesa del Carmine a Gimara di Fano il funerale del papà del sindaco intanto è arrivato anche il cordoglio del vescovo di Fano Armando Trasarti e di tutti i sacerdoti della diocesi in una nota si legge si stringono al sindaco Massimo Seri e alla sua famiglia per la perdita del caro padre e si dichiarano vicini nella preghiera nella certezza che Dio lo ha già accolto nelle sue braccia paterne Guinza Guinza senso unico verso l'Umbria parliamo della viabilità con noi penalizzata l'intera provincia Fano Grosseto l'allarme di conformercio a Baldelli intesa invece sulla Fano Urbino l'esenzione della Tosap anche per il 2021 altre agevolazioni per chi non ne fruisce la richiesta al comune di Fano di Martina Carloni che è la vicepresidente dei ristoratori sempre da Fano Corriere Adriatico la promozione è compito di tutti parte un concorso che si chiama Racconta Fano con l'hashtag davanti questo qua questo simbolo l'hashtag si chiama così cittadini invitati a lanciare anzi sui social con foto e video prodotti arti e tradizioni locali protagonista prorogate scusate in centro la filodiffusione luci in abbinamento al carnevale per Dante da Vallefogli invece sul biodigestore una montagna di no la petizione dell'associazione diversamente assume contorni comunali il dissenso sale a quota 5080 il presidente Torcoletti dice come si comporterà adesso Ucchielli fino a ora è mancato il ruolo di garante tra l'altro Ucchielli se vorrà rispondere potrà farlo anche lunedì sera qui su Fano TV in diretta ci sarà primo cittadino con appunto ospite il sindaco di Vallefoglia quindi se volete potete fare domande al sindaco lunedì sera in diretta Polo Tecnologico a Morciola l'Occhie di Carloni a Calcagnini i ristoratori più forti della pandemia Urbino rassegnati o ribelli no ci crediamo Fabrizio e Tatiana preparano l'inaugurazione nel cortile del collegio Silvia e Giuseppe invece scommettono su Via Battisti ora non guardiamo le fatture da pagare ma la prospettiva di un'offerta di qualità e sotto invece da Urbino riapre l'unità di rianimazione con quattro posti letto il reparto torna dunque operativo dopo i contagi avvenuti e la Foschi replica al Partito Democratico dalla pagina della Val Metauro le prenotazioni impossibili e niente raddoppio ospice siamo a Fossombrone i punti critici dell'ospedale di Fossombrone oltre alla sospensione di laboratori e TAC il sindaco chiede un incontro al direttore dell'area vasta per un quadro dell'emergenza intanto la buona notizia che arriva da Barchi di cui ci siamo occupati anche noi la settimana scorsa le poste di nuovo aperte tre giorni a settimana il risultato della protesta per l'ufficio di Barchi il sindaco soddisfatto le primarie invece dell'istituto Fermi di Mondolfo adottano il modello finlandese al via la sperimentazione dei cicli ritmici con l'obiettivo di accrescere l'apprendimento sapete che in Finlandia la scuola è un modello strepitoso incredibile se avete tempo e voglia andate a fare una ricerca su internet per vedere come funziona il modello finlandese nei paesi del nord è bellissimo rumori invece dei treni altre soluzioni per abbatterli la posizione del sindaco con il comitato dopo l'incontro in regione qui si parla delle barriere antirumore di cui abbiamo parlato molto anche prima della pandemia quelle barriere molto brutte che impedirebbero la vista del mare passando per la strada sono uno scempio e quindi si cerca adesso di evitare che queste barriere vengano costruite il pronto soccorso non è a rischio e chiusura a titolo del Carlino di Senigallia perentorio l'Asur nonostante la crisi del personale stiamo provvedendo con l'assunzione a tempo indeterminato arrivano due nuovi operatori sotto invece in quarantena una classe delle medie foscolo uno studente positivo fa scattare l'isolamento a Ostravetere per i suoi compagni siamo allo sport velocemente Viss obbligata a reagire per stoppare il Modena al Benelli serve una scossa contro gli emiliani dopo quattro sconfitte consecutive questa oggi pomeriggio alle 17.30 allo stadio Benelli di Pesaro c'è l'incontro Viss Pesaro appunto Modena per quanto riguarda il Fano Padova significa Dolori al Fano serve l'impresa otto sconfitte in altrettante sfide tra Lappiani e Leuganeo è un vero tabù l'ultima volta finì 6 a 1 per i patavini che vogliono proseguire la rincorsa alla vetta dunque questa è la pagina del Corriere Adriatico per quanto riguarda lo sport il basket scusate di Serie A con Venezia sfida ad alta quota titolo del Corriere domani sera la Carpegna Prosciutto ritrova la Reier e Austin Daie ma stavolta quasi alla pari soprattutto per quanto riguarda la classifica poi Lube invece parliamo di pallavolo difendi la Coppa alle 15.30 c'è la semifinale contro Modena poi Trento e Perugia si contenderanno l'altro posto in finale gli emiliani indietro in campionato vogliono salvare la stagione coach De Giorgi e i suoi non sono invece d'accordo e questa era l'ultima notizia della nostra rassegna stampa allora noi ci salutiamo qua buon fine settimana a tutti ci rivediamo lunedì mattina vi ricordo questa sera alle 20.30 7 per occhio il magazine della nostra redazione che ripercorre tutte le notizie della settimana le più importanti ma ovviamente mettiamo come sempre vi diciamo che se c'è qualche notizia dell'ultima ora la troverete in apertura del nostro magazine quindi siamo sempre operativi tutti i giorni 7 giorni su 7 buon fine settimana a tutti arrivederci a tutti Grazie a tutti.